Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria si sono formati 6 km di coda tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Livorno 2 km di code a tratti tra Sarzana e Massa. Sulla Fipili per lavori in direzione Mare un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Ovest e rallentamenti in direzione Firenze tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per lavori è chiusa l'entrata di Darsena Toscana Est in direzione Firenze. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!